Questo è Linus. Lei a Radio DJ ha fatto per lungo il tempo il volo del mattino. Linus è stato seduto qui. Di lei ha detto che è un ragazzo molto complicato sotto il punto di vista affettivo. Sì. È vero? Sì, è vero. Cioè? Beh, ho delle dinamiche dentro di me che devo ancora imparare a gestire. Sono uno vivo, quindi mi infastidisco, dico quello che penso alle persone. Non avendo avuto un padre autoritario, io non mi rivolgo mai al mio direttore artistico, non mi rivolgo mai con quell'atteggiamento un po'. Io parlo sempre, io non lavoro per lui, lavoro con lui e quindi io dico quello che penso e questo mi crea anche dei problemi. Linus che dice delle cose piacevoli ma anche durissime. Quando io gli ho chiesto se aveva letto i suoi libri, se era fra gli 7 milioni di persone, lui mi ha risposto. Diciamo che non è il mio tipo di letteratura, è troppo femminile. Sì, sì. La sua letteratura è femminile? La mia letteratura? Boh, non credo, insomma, oppure sì, non lo so. Però non so che libri legge Linus, ecco. Ah, ma legge Linus? Beh, insomma, non lo so, sinceramente. Ancora Linus? La radio, la corsa, la bici, non credo che abbia tanto tempo per leggere, insomma, però non lo so. Dica la verità, ma Linus quindi è un po' uno stronzo? Una volta è stronzo, sì. A volte no e a volte sì. A volte è stronzo glielo dico, a volte non è stronzo glielo dico. Però io voglio bene, diciamo.